La Matrix europea, la verità dietro i giochi di potere, con Francesco Amodeo. Volevo aggiornarvi sulla iniziativa che sto portando avanti per il 3 luglio a Milano. Dalle 18 ci riuniremo in largo guido Donegani, nei pressi del consolato americano, per un flash mob in onore di Julian Assange, perché il 3 luglio è il giorno del suo compleanno, ma soprattutto per dire di no all'estradizione di Assange in America. Una misura che sta per concretizzarsi contro di lui, una misura veramente criminale, ma soprattutto una misura criminale nei confronti di Julian Assange, ma criminale nei confronti della libera informazione. Veramente sarebbe il funerale della libertà di informazione. Quindi dobbiamo far sentire la nostra voce, dobbiamo essere compatti, dobbiamo fare qualcosa di concreto. E quindi ho pensato di riunirci il 3 luglio, che ripeto è il giorno del compleanno di Assange, e di farlo in un luogo molto significativo, ossia nei pressi del consolato americano di Milano. Perché noi sappiamo che sono gli inglesi che devono materialmente prendere la decisione di estradare Assange, però sono gli americani che muovono le fila. Quindi sono loro i registri. Quindi questa sia sicuramente un'iniziativa molto forte, anche un po' un modo per contarci, per vedere quanti sono disposti con il caldo in una città come Roma e Milano a scendere in piazza in onore della libera informazione. Vediamo quanti di questi partiti sovranisti, che non sono stati chiamati in causa in prima persona, nel senso che non ci saranno bandiere di partito, vediamo quanti sono disposti, pur non potendo mettere il cappello personale e politico sull'iniziativa, sono invece disposti ad inviare i propri delegati in onore del giornalista che rischia l'estradizione e quindi che rischia la vita. Quindi sono contento di aggiornarvi, di dire che su Milano tutto prosegue a gonfie vele, Assange lo vogliono più morto del vivo, che vivo questo senza dubbio, tant'è vero che Assange è stato uno dei primi a dire piuttosto mi faccio trovare morto ma non mi farò mai estradare negli Stati Uniti. E loro che cosa hanno fatto? Stanno organizzando l'estradizione negli Stati Uniti, proprio secondo me per indurre anche un gesto estremo da parte del noto giornalista. Noi dobbiamo fare in modo di scongiurare tutto questo, dobbiamo sensibilizzare l'opinione pubblica, dobbiamo far capire che è impensabile che un giornalista venga punito per aver fatto in maniera eccelsa il suo mestiere, cioè per aver smascherato dei criminali, per aver smascherato degli atti veramente terroristici, possiamo dire, che sono stati portati avanti anche dagli Stati Uniti d'America. Quindi invece di punire i responsabili di quegli atti si sta punendo chi quegli atti li ha denunciati. Questo è inaccettabile in una democrazia, è inaccettabile in Occidente, è inaccettabile in paesi che si intendono civili. Poi attacchiamo Putin e la Russia dicendo che lì i giornalisti dissidenti fanno una brutta fine, perché qual è la fine che stanno facendo fare Assange? Lo stanno torturando, nel vero senso della parola, da molti anni. Quindi è arrivato il momento di fare un'azione concreta. A me, vi dico la verità, non interessa se andrò fuori al consolato americano e saremo in 10, o saremo in 20, o saremo in 30, cominciamo a piccole gocce, io parto da Napoli, vado a Milano, accoglierò tutte le persone a cui oggi ho comunicato anche con una newsletter. Quindi sono stati avvertiti tutti quelli che mi seguono che noi alle 18 saremo in largo guido donegani con tutti gli amici che vorranno esprimere solidarietà ad Assange, fare virtualmente gli auguri ad Assange per il compleanno e dire di no alla sua estradizione. La Matrix europea. La verità dietro i giochi di potere. Con Francesco Amodeo.